Franco Frattini, magistrato, politico, due volte ministro, commissario europeo, appena nominato presidente aggiunto del Consiglio di Stato, un curriculum difficilissimo da riassumere, con una serie di incarichi prestigiosi praticamente in ogni campo dello scibile umano e d'altronde lei è una fan prodige, insomma 23 anni. Studiavo, studiavo da quando ero ragazzo perché era quello che volevo fare nella vita, io volevo fare il giudice, mio padre era un professore universitario di letteratura moderna e contemporanea e gli dissi guarda non seguirò la tua strada, io voglio fare il giudice. E lei è andato a scuola nel leggendario liceo Giulio Cesare, quello di Venditti. Esattamente. Quindi era già impegnato in politica o invece era uno studioso, un ragazzo secchiore come diceva una volta? No, studiavo e ovviamente avevo curiosità, curiosità anche per le posizioni politiche, beh all'epoca a Giulio Cesare c'erano squadre fasciste che picchiavano forte quindi bisognava stare un po' alla larga. E lei era da tutta l'altra parte, era un giovane socialista. Sì, beh simpatizzavo diciamo così, io non sono mai stato iscritto a partiti, non ho mai fatto politica attiva. È stato consigliere credo di Ministro Martelli. Io sono allievo di Giuliano Amato, mi considero allievo di Giuliano Amato perché Giuliano Amato era professore di diritto costituzionale e poi ho conosciuto ovviamente Claudio Martelli. Martelli è stato con lui a lavorare in anni tremendi, era 90-91. Ho lavorato con lui alla normativa antimafia che il povero Giovanni Falcone coordinava a quell'epoca. Erano quegli anni, no? Che fu una normativa straordinaria che permise poi di fare delle retate che azzerarono molta parte della mafia corleonesa. Presidente, ma tra magistrate e politico cos'è peggio oggi per l'opinione pubblica? Non ho idea, io credo che la cosa da fare sia servire le istituzioni. Temo che purtroppo la politica di oggi sia vista soltanto per le sue degenerazioni. Io credo che ci sia una politica alta e nobile. Io ho conosciuto alcuni personaggi, se penso a Giuliano Amato, se penso al Presidente Mattarella, penso a personaggi che hanno svolto un'attività, se penso al Presidente Napolitano, personaggi che hanno svolto attività politica in campi del tutto diversi in modo, a mio avviso, alto. Qual è il suo ruolo al Consiglio di Stato? Lei guida la sezione giudicante, mi sembra. Io guido una sezione giudicante, diciamo che il Presidente ha giunto il numero due del Consiglio di Stato. Io guido una sezione giudicante che si occupa di materie specialmente sensibili. Io mi occupo di infiltrazioni mafiose nell'economia legale, cioè giudichiamo se è legittimo o non è legittimo, come dire, precludere a un'azienda in sospetto di mafia di operare su un territorio. Poi mi occupo dell'intera sanità pubblica, se un appalto dalle siringhe alla costruzione di un ospedale è legittimo o non è legittimo. E poi mi occupo di un settore particolarmente importante che è quello, diciamo così, dei diritti delle persone, dei diritti fondamentali. Noi abbiamo deciso questioni delicatissime come quella della possibilità di omologare un matrimonio tra omosessuali oppure no, temi di questo tipo. Sì, era anche una domanda quella di D.L. Zani in discussione in questo tempo, ma andiamo un attimo per ordine. Lei mi stava accennando alle infiltrazioni mafiose, c'è stato un aumento in quest'ultimo periodo. Un grande aumento. Io direi che dall'inizio del periodo Covid ho registrato un aumento che è tra il 16 e il 18% delle cause per interdittiva, il che è sintomatico, la stessa ministra Lamorgese lo ha pubblicamente riconosciuto, di una penetrazione di mafie sempre più in un terreno di piccola economia. Perché adesso maggiormente? Manca la liquidità. Le persone sono disperate e chiaramente oggi, lo dico così, è una mafia che uccide di meno, ma che vuole controllare i meccanismi dell'economia. Le faccio un esempio. Noi abbiamo sciolto per mafia, dichiarando legittimo lo scioglimento, il comune di Brescello, quello di Don Camillo e di Peppone, in provincia di Reggio Emilia, sciolto per mafia, per penetrazioni mafioso. Chi avrebbe mai potuto pensarlo? Rivado con la memoria, Presidente, al tempo in cui lei ha avuto una lunghissima carriera politica, poi ha scelto di lasciare la politica, ma è cominciato dal Consiglio Comunale di Roma praticamente, fino ad arrivare a Ministro degli Esteri. Durante il suo primo mandato l'Italia partecipò, anche se non militarmente, all'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti di George W. Bush. Ecco, ex post fu una decisione giusta? Ex post sicuramente no, ma il primo ad essere ingannato fu proprio il segretario di Stato americano, un grandissimo personaggio, il generale Colin Powell, che portò in Consiglio di Sicurezza la famosa pistola fumante che purtroppo non corrispondeva alla verità perché a lui avevano dato dati non veri. Poi è chiaro che la dottrina Bush era una dottrina di tentare di esportare il nostro modello di democrazia. Abbiamo capito, e noi lo capimmo dall'inizio, che non è questo il modo. Bisogna aiutare i popoli a crescere perché l'Italia si è sempre occupata in missioni di addestramento, di educazione alla giustizia, il ruolo delle donne in Afghanistan, perché quello è il modo per far crescere i popoli, non andare lì e dire questa è la nostra bella Costituzione, take or leave it, prendila o lascia, non si può fare così. L'Italia ha partecipato infatti nel 2003, credo proprio, comincia, anzi la missione umanitaria antica Babilonia, no? Sono stati anni tremendi. Penso ovviamente all'attentato suicidio nei confronti del nostro contingente, 13 tramilitari civili a Nasseria. Penso anche però ad alcuni nomi, penso a Fabio Quattrocchi, penso a Enzo Baldoni, giornalista, penso all'agente dei sismi Nicola Calipari. Che responsabilità ha sentito in quel tempo? Che peso, che dolore? Beh, ovviamente non ci dormivo. La notte in cui dovemmo decidere il blitz che liberò gli altri tre, perché Quattrocchi era stato ucciso come ricordiamo, gli altri tre furono salvati e le forze anglo-americane ci dettero tutti i dettagli, ma dissero prima di agire, visto che è rischioso, ci dovete dare il via libera. Ovviamente non abbiamo dormito e il Presidente del Consiglio mi autorizzò a dare il via libera e fortunatamente li salvammo, Stefio, Cupertino. Però ogni volta che c'era un episodio del genere noi avevamo, io andai a trattare con gli ulema in una grande moschea, in un luogo di cui è bene non parlare, per la liberazione delle famose, tra virgolette, due Simone che erano state catturate e prese in ostaggio, perché capì che se non vai da coloro che sono dietro queste azioni e noi dicemmo in fondo l'Italia può fare qualcosa per voi. Questo mi disse che cosa può fare? Io dico ma ho notato che a Baghdad non esiste un ospedale pediatrico dedicato. Con i soldi della cooperazione creammo un ospedale per i bambini a Baghdad e la telemedicina con il gaslini di Genova per quelli che non potevano essere, non fu solo per quello che le liberarono, ma perché noi siamo l'Italia anche per questo. Che immagine ha l'Italia all'estero, nel Consesso internazionale? Mi riferisco naturalmente a bande di terroristi. Qualche volta l'abbiamo vista sbertucciata, l'abbiamo vista sottostimata. Cosa rende nel mondo l'Italia rispettabile se lo è? Il fatto di sapere che noi italiani cerchiamo la stabilizzazione. Prima di sparare noi cerchiamo di stabilizzare e questo lo abbiamo visto in tutti i teatri di crisi. Il Libano, di cui nessuno parla più, c'è una missione dell'ONU comandata ancora da un generale italiano che stabilizza il nord di Israele e il sud del Libano dove ci sono le milizie di Hezbollah e gli estremisti iper-religiosi israeliani che si fronteggiano a poche centinaia di metri. In mezzo c'è il contingente a guida italiana. Nessuno ne parla più. Perché? Perché quel territorio è pacificato. Per la sua esperienza come Ministro degli Esteri, come vede l'azione di governo oggi? Sì, nei confronti della Libia in particolare. Te manca altro non soltanto per i migranti naturalmente ma per la guerra. Credo che il Presidente Draghi abbia fatto una cosa molto importante, abbia adottato una scelta coraggiosa di andare subito dal nuovo Primo Ministro libico diciamo di transizione perché poi si dovrebbe votare 24 dicembre di quest'anno in Libia e il Ministro Di Maio abbia fatto bene ad andare insieme ai colleghi francesi e tedeschi per dimostrare che il nucleo forte dell'Europa c'è. Tutt'altra cosa è se la Libia rimarrà una Libia o vi saranno due Libie. Perché è un po' difficile far immaginare a coloro che sono sul campo che domani la Turchia che ha 5.000 uomini che proteggono Tripoli e la Russia che ne ha altrettanto che proteggono la Cirenaica salutino e mettano tutti nelle mani. La dolente nota della Turchia bisogna toccarla. L'Italia ha avuto un'azione durissima, forse un scatto d'orgoglio devo dire. Forse è imprudente o corretto? Il Presidente Draghi ha espresso un sentimento che gli veniva molto spontaneo e certamente che si tratti di un'autocrazia. Io l'ho visto da quando io creai il gruppo degli amici della Turchia per cercare nel 2003 di farli entrare nell'Unione Europea. A forza di spingerli verso l'Est in tanti e tanti anni, invece di portarli verso l'Occidente, li abbiamo messi nelle mani dell'Iran, della Russia e forse anche della Cina. Abbiamo fatto noi degli errori, ma non c'è dubbio che oggi la deriva del Presidente Erdogan non è quella che noi ci saremmo aspettando. Senta, lei è stato commissario europeo per la giustizia, la libertà e la sicurezza. Ecco, in campo di sicurezza l'Unione Europea è riuscita a agire in maniera unitaria e mi riferisco in particolare al terrorismo fondamentalista islamico e agli attacchi terroristici. Ci sono state misure comuni efficaci? È difficile tuttora averle perché gli stati nazionali hanno una gelosia tremenda a mettere in comune i dati più riservati. Noi sappiamo che il terrorista che ha fatto strage nel mercatino di Natale in Germania, prima di essere ucciso in Italia in uno scontro con la polizia, era stato in altri tre paesi dell'Unione Europea senza che nessuno lo avesse tracciato. La stessa cosa si può dire per i terroristi del Bataclan. Erano transitati anche per l'Italia. Io feci una cosa importante che fu quella di avanzare il sistema informativo Schengen. Questo esiste ancora e funziona. Lei parlava di gelosie, insomma c'è stato dentro per anni, di gelosie dei vari stati anacronistiche oggi, no? Inutili, sciocche perché gli scopi comuni sono tanti oggi, l'abbiamo visto anche sulla pandemia, insomma non è pensabile fare più da soli. È così, ma quando giustamente il presidente Draghi è costretto, lui europeista come lo sono io, a dire se non ci aiutate facciamo da soli, quelle sono parole forti. A proposito dei vaccini, quando un paese dell'Unione Europea ci dice noi deroghe alla distribuzione per dare un milione di dosi in più all'Italia non le possiamo accettare ai ragazzi. È per questo che nella percezione della gente c'è una mancanza di fiducia nei confronti di quello che sembra una sovrastruttura, un insieme di sovrastrutture in Unione Europea. In Europa ci sono delle strutture di altissimo valore e di altissimo pregio. Ci sono purtroppo anche dei gangli burocratici che andrebbero estirpati. La percezione del cittadino è che prevalgano questi ultimi. Io credo che l'Europa sia tuttora l'unico valore aggiunto che ci permette di crescere. L'unico, nonostante tutto? Nonostante tutto, pensiamo al costo di non avere l'Europa. Questo è un esercizio che non fa nessuno. Se io dovessi mostrare il passaporto quando attraverso il Brennero vado a 20 miglia e così via per qualsiasi paese, io sarei un po' meno libero. Io ho una facoltà di circolazione, di movimento. Non pago le tasse doganali se esporto dei beni. Quanto costerebbe ripristinare quello che c'era prima del trattato di Roma del 57. Enormemente di più. Poi abbiamo accennato alcune parole chiave, terrorismo, migrazioni, pandemia. Da soli non è possibile, è impensabile, non possiamo chiuderci. Non è possibile perché ci sono dei giganti mondiali come gli Stati Uniti, la Cina, l'India che molti sottovalutano in misura minore la Russia. Anche il più grande Stato europeo come la Germania, da solo non può fare proprio nulla. Senta, non è un cambio di tema, ma parlavo prima, lo collego al tema della sfiducia della percezione comune e metto in campo il tema della magistratura. Ecco, lei da magistrato come vede quello che sta capitando in magistratura? Come regolamentare l'equilibrio di poteri che paiono compromessi e tra l'altro restituire innanzitutto la fiducia necessaria ai cittadini? Guardi, assisto a questi episodi, a questi racconti, a queste scene con tristezza profondissima perché per uno come me che ha indossato la toga a 23 anni, sinceramente avendone superati 60, è un gran dolore. D'altra parte io penso che noi abbiamo oggi la guida del Presidente Mattarella che sta tenendo un atteggiamento di saggia prudenza prima di anticipare conclusioni e il resto però è il problema che il Parlamento non si mette d'accordo su una linea condivisa che dovrebbe partire a mio avviso dalla separazione delle carriere tra quella inquirente e quella giudicante che è una delle basi. Nell'ordinamento anglosassone, tanto per fare un esempio, il il prosecutor, quello che accusa e il judge, quello che decide, non possono salire nello stesso ascensore insieme al tribunale perché non si possono parlare. Capisce bene che qui siamo tutti colleghi ovviamente, miei colleghi giudici che poi diventano procuratori generali, poi tornano a fare giudici. Ecco, questo è un fenomeno su cui francamente il Parlamento deve dare uno stop. Sì, tra l'altro pare che la riforma della giustizia sia una condizione per poter avere il benestare ai fondi del recovery. Ha fatto bene l'Europa a ricordarcelo, credo che il Ministro Cartabia abbia tutti gli strumenti per porre un buono strumento sul Parlamento. Lui è stato anche presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale e presidente dell'Arta Corte di Giustizia Sportiva del CONI. Ora qui ci sarebbe da parlare della Superlega, di tutto quello che sta succedendo nel mondo del calcio. Immagino quale possa essere il suo parere, sicuramente contrario a questo pastrocchio. Guardi, io credo che nel mondo dello sport quello che si deve rafforzare moltissimo è la prevenzione contro ogni forma di illegalità. Noi vediamo un incremento esponenziale di movimenti di denaro illecito, di scommesse clandestine, di partite truccate, questioni su cui noi abbiamo deciso come Alta Corte di Giustizia per lo Sport, lo strumento preventivo deve ridare completa pulizia e quindi io credo che le mosse, ad esempio, della UEFA, di avere un controllo sulla sostenibilità delle società calcistiche sia un passo estremamente importante. È quello che in Italia noi facciamo come giudici sportivi e quello che in realtà fa il CONI, è il suo dovere. Lei è un appassionato di sport? Certo. Ma di sci però, si è persino sposato in una baita in Tirolo. Sì, mi sono sposato. Beh, io sono un appassionato di montagna, però ovviamente in questi anni ho seguito e seguo moltissimo il calcio, ho dovuto decidere questioni molto spinose e per questo non rivelo mai la mia passione segreta che non può mai… Però c'è, c'è, come ogni buono italiano. Mi piace giocare a golf, quindi come dire, mi piace lo sport in generale. Ed è molto orgoglioso di poter esibire, volendo, un collare olimpico. Ci dica un po'? Il collare d'oro olimpico del CIO, che è il comitato internazionale olimpico, mi è stato dato perché da ministro degli esteri ho convinti 149 paesi del mondo a votare per un seggio permanente del CIO all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi lo sport del mondo ha un seggio permanente all'ONU e questo non era scontato. Allora l'allora presidente mi dette questo collare d'oro olimpico, io ne sono orgoglioso. E' appeso da qualche parte. Certamente, in casa mia. Tra di sé, naturalmente. Senta, lei ha sostenuto, parlavamo dell'illegalità nel mondo del gioco, lei ha sostenuto con forza una battaglia a difesa dell'infanzia contro la diffusione dei videogiochi che sono sempre più violenti, no? Sì, sì. E' una sfida che si può vincere e la metto in parallelo a un'altra battaglia che l'ha vista protagonista, cioè delle cosiddette parole pericolose, anche qui violente in rete. Sì. Cioè, è possibile attuare delle forme di censura ed è giusto soprattutto? Guardi, io iniziai questa sfida da commissario europeo, ero commissario alla giustizia e alla sicurezza e ai diritti fondamentali. E ci trovammo a lavorare in rete con le polizie postali d'Europa e trovammo, tanto per darle soltanto un esempio, ma non di ieri, del 2007, di un videogioco il cui obiettivo è quanti israeliani riesci ad uccidere, creato da organizzazioni terroristiche jihadiste che diffondono un video che cade nelle mani di chissà quanti bambini nel mondo arabo, ovviamente lo togliemmo immediatamente dalla rete perché era di libero accesso, e lo scopo del gioco era uccidi l'israeliano. Ed era un videogioco destinato ai bambini, questo dà l'idea dell'orrore, la pedofilia online, un altro cancro terribile che non siamo riusciti ad estirpare, e poi certe parole che, come dire, incitano all'odio. Io sono assolutamente contrario a qualunque forma di censura, ma quando si va oltre i limiti, diciamo così, dell'espressione, quando si eccitano gli altri, si armano delle mani, perché molti non rispondono, ma il pazzo che prende la pistola e lo fa davvero, poi magari lo troviamo. Quindi ci vuole un equilibrio assoluto, non si può regolare con legge la parola vietata, è la parola consentita. Purtroppo è un lavoro che tocca i magistrati in molti casi ed è un lavoro forse il più difficile di tutti. Anche qui non dovrebbe esserci una concertazione a livello europeo? Ci deve essere, ma gli europei si sono sempre rifiutati. Il famoso caso delle vignette danesi, in cui la Danimarca affrontò il rischio di attentati contro suoi concittadini, dicendo questa è la nostra linea e noi continuiamo. O della famosa rivista satirica francese che continuò a dire, Charlie Hebdo, noi questo pensiamo e questo diciamo. Volete fare altro negli altri paesi? Fatelo. Allora non si può nemmeno dire non potete farlo. Charlie Hebdo, abbiamo pianto con voi, però questa è la vostra libertà. Continuo a dare dei colpettini alla fiducia nei confronti dell'Unione Europea, passo dopo passo. Perché io sono troppo amante dell'Unione Europea, io vorrei gli Stati Uniti d'Europa e allora sono un po' come quelli innamorati, un po' delusi che qualche cosa non funziona come andrebbe. Però amano moltissimo la loro fidanzato. Beh, io credo assolutamente che questo sia il nostro futuro, non solo il nostro presente. Per necessità e anche per rispondere a un sogno giusto di giustizia, no? Sì. Nato da personalità grandiose. Beh, noi abbiamo avuto l'onore di avere De Gasperi tra i padri fondatori, di avere Spinelli, di avere Martino. È chiaro che sono personaggi che hanno tracciato un secolo. Presidente, a proposito di censura, volevo recuperare, abbiamo accennato prima il tema del DDL-ZAN, perché è in discussione nel Senato, ma soprattutto è in grande discussione nel Paese. A suo parere da magistrato, le leggi che abbiamo e la Costituzione non contrastano efficacemente i reati in questo ambito o c'è un vuoto normativo che in qualche modo dovrebbe essere colmato. Guardi, da commissario europeo io ho istituito l'Agenzia europea per i diritti fondamentali che fino al 2006 incredibilmente non esisteva e la fondai a Vienna e il primo incarico che detti a quell'agenzia è di fare esattamente un'analisi a tutto campo europea su tre fenomeni. La discriminazione di genere, la islamofobia e ovviamente la persecuzione o sostanzialmente l'odio antiebraico. I risultati furono terribili. Scoprimmo che in tanti paesi europei il diritto delle lesbiche, degli emesessuali, di coloro che rivendicano il diritto alla loro libertà anche in questo campo, non solo non sono tutelati, ma in qualche modo sono addirittura discriminati. Quindi io non conosco la legge ZAN e mai e poi mai da giudice mi permetterei di parlare di un progetto di legge. I giudici giudicano su leggi che esistono. Dico soltanto che non si può far diventare una legge lo strumento per colpire un avversario politico. Quindi io credo che il diritto individuale di ogni persona sia in quello che lui si sente e quindi io avrei un rispetto assoluto per ogni tipo di diversità. Lo dissi in Parlamento europeo quando giurai da Vicepresidente della Commissione. C'è un tema però anche di libertà di opinione, no? Perché un conto sono gli insulti o gli atti di violenza ci mancherebbe e forse qui un'estensione della legge Mancino potrebbe essere utile in questi casi. Però c'è anche il diritto a ritenere ad esempio senza dover essere querelati che un bambino nasce da un papà e una mamma e che l'utero in affitto è una schifezza. Guardi io la direi così se mi facessero una domanda come mi ha fatto lei. Io da cattolico seguo assolutamente quello che lei ha detto. Da laico e da giudice se avessi una norma che mi dicesse tu devi rispettare il diritto di due omosessuali di adottare un bambino, ricordiamo la sentenza recente della Corte Costituzionale anche su una materia delicatissima, io la rispetterei in maniera senza se e senza ma. Da cristiano mi riconosco nelle parole del Santo Padre, non posso dire altro. Certo, una cosa ancora veramente stiamo saltando di qua e là ma la terrei ore. Lei parlava prima del suo impegno in Consiglio di Stato anche per regolamentare questioni che riguardano la sanità e allora le faccio ancora una domanda sulla proprietà intellettuale dei vaccini perché Biden ha chiesto di rimuoverla. Ho visto alcune esitazioni persino nel Presidente Draghi sicuramente in Angela Merkel da liberale. Lei che ne pensa? È una bellissima idea, mi affascina molto. Credo che il Presidente Draghi abbia toccato un tema non per contrastarla come ha fatto la Merkel ma per integrarla. Occupiamoci prima, perché è più facile, delle limitazioni all'export di vaccini perché nel momento in cui tu liberalizzi togliendo il diritto di proprietà intellettuale ciò non significa che ad esempio in un paese povero dell'Africa si possono creare 50 stabilimenti di produzione di vaccini. Allora prima rimuoviamo il blocco alle esportazioni e parallelamente lavoriamo sulla proprietà intellettuale. A me l'idea del Presidente Biden, confesso, affascina molto e credo che il Presidente Draghi l'abbia voluta integrare e non contrastare. Sì, è quello, diceva prima da Cristiano, insomma Cristiano perché la sua famiglia, la sua educazione. Sì, miei genitori, è quello che si impara in famiglia. Da piccoli. Sì, mio papà è stato tanti anni redattore dell'Osservatore Romano, lui era un professore universitario di letteratura italiana quindi gli piaceva scrivere e da cattolico scriveva i suoi pensieri sull'Osservatore Romano. Ma non un cattolico, come si può dire, integralista, un cattolico peccatore. Non si usava integralista. Come poi siamo tutti. Come tutti, esattamente come tutti. No, mi riferivo da Cristiano anche al tema dei vaccini e della libertà di poterli far, non soltanto di farli circolare, ma di mettere i brevetti a disposizione di tutti anche i paesi poveri. Il Papa si è speso moltissimo. Questo è il tema più debole di tutta la fase attuale, spero quasi di fine pandemia, perché noi non ci stiamo preoccupando di che cosa potrebbe accadere in un'ipotesi di recrudescenza Covid in quei paesi. Chi si è chiesto cosa sta accadendo in India? Ce lo siamo chiesti. Ma lì è una tragedia di dimensioni. Muoiono migliaia e migliaia di persone ogni giorno ed è un paese di oltre un miliardo di persone, che è il produttore più forte al mondo di vaccini, per paradosso, ma non li destina evidentemente in modo eco a tutte le classi. Grazie, Presidente. Chiudiamo con una canzone, una cosa che oggi le è cara. Lei ha ricordato Giulio Cesar, mi viene in mente compagno di scuola. Compagno di scuola, leggendo Dante, tra l'altro è pure l'anniversario. Assolutamente. E io quella storia l'ho vissuta, quindi me la ricordo quando lui cantava così. Grazie, grazie davvero. Grazie. Davanti alla scuola Tanta gente 8 e 20 Prima campana E spegni quella sigaretta E migliaia di gambe e di occhiali e di corse sulle scale Grazie a tutti. Grazie a tutti.